Siamo in una casa abbandonata chiamata Pericolo 81. Si trova località Fermicino, Colle Pizzuto, sempre a Roma, dove ci hanno segnalato attività paranormali o almeno qualche anomalia. Come potete vedere dal K2 qualcosa viene segnalato. C'è qualcuno? Ok. Chi sei? Un uomo o una donna? Un bambino? Chi sei? Sei un bambino? Un bambino che abitava qui? C'è un'altra scala che va su. Questa, addirittura c'era l'ascensore. C'è qualcuno? C'è qualcuno qui? Qui siamo sotto al tetto. Come potete vedere, è una grande casa. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Se c'è qualcuno, illumini il mio strumento. Bravo, come stai facendo? Sei un uomo o una donna? Sei un uomo? Sei una donna allora? O come ho detto prima, sei un bambino? Vabbè, riscendiamo al piano di sotto e ci vediamo fuori.